volete stare in forma ma avete poco tempo per allenarvi tempo ma di cosa stai parlando io non ne ho più eh sì ma per fortuna c'è il training adatto a chi non ha tempo sono gli allenamenti ad alta intensità che stanno spopolando nelle palestre di tutto il mondo uno dei più in voga è il crossfit un allenamento hip t high intensity power training allenamenti potenzianti ad alta intensità in queste discipline ci si concentra sulla tonificazione sul potenziamento muscolare con sessioni di allenamento corte ma intense e si alternano esercizi diversi per brevi periodi secondo gli studi questo tipo di allenamento fa bruciare più calorie aumenta la capacità aerobica e fa mettere su più massa magra trovate il link a una ricerca interessante in descrizione comunque non dobbiamo diventare tutti degli atleti necessariamente con lo stesso principio di alternanza si trovano allenamenti più leggeri più dolci adatti a tutti ma con gli stessi benefici anche perché gli allenamenti ad alta intensità rischiano di stressare i muscoli e le articolazioni in modo eccessivo magari i danni non si vedono subito ma a lungo termine si possono presentare dolori cronici infortuni e problemi muscolari difficili da risolvere come sempre la soluzione giusta è personalizzare il percorso in base alla propria forma fisica e costituzione fate attenzione mi raccomando se siete a milano potete venire allo spazio solo salute il mio centro di salute naturale per trovare i corsi adatti a voi ed essere seguiti in piccoli gruppi corsi small group con trainer esperti oppure a casa seguiti training di serena li ho pubblicati qui sul canale c'è una playlist completa anzi vi piacerebbe vedere altri video training di serena fatemelo sapere basta cliccare sul sondaggio che trovate nella piccola i qui in alto l'importante è fare almeno 30 minuti di movimento ogni giorno trovate il modo che preferite ma fatelo se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao ciao